Casa Partina è adesso anche casa nostra. Quattro giovani disabili stanno per unirsi a Stefano in quella che sarà agli inizi del prossimo anno la loro nuova abitazione. Nei primi mesi sarà in forma sperimentale dal lunedì al venerdì per poi tornare nelle loro case di famiglia. Partina è pronta a diventare quindi una delle prime esperienze di Trust. È stata la famiglia Tarchi a mettere a disposizione la casa per il figlio Stefano e non solo, una storia che avevamo raccontato fin dall'inizio di questo importante progetto. Abbiamo chiamato questo Trust con un termine un po' criptico, esserci in continuità. Dove esserci sta per esserci come persone, mi chiamo Paolo, Piero e così via. Non sono un numero in poche parole. In continuità perché non c'è rottura con la vita precedente. Si apre una nuova vita di tutti questi ragazzi che realizzeranno il loro progetto di vita. Noi ci auguriamo che sia felice, che sia positivo e che li accompagni fino alla fine loro. Noi non ci saremo più ma abbiamo provveduto a questa soluzione alla quale crediamo molto. L'abitazione non sarà appunto soltanto per Stefano, ci saranno anche altri quattro giovani che adesso frequentano il centro diurno Isola che non c'è a Bibbiena. La struttura sarà gestita dalla cooperativa sociale COINEE ed è il cuore del progetto zonale per il Dopo di Noi, di cui ora sono titolari la ASL, l'Unione dei Comuni e il Comune di Bibbiena finanziato dalla Regione Toscana. Un progetto pilota, ha detto Francesco Frenos, assessore alle politiche sociali del Comune di Bibbiena che deve essere realizzato e sostenuto non solo a Partina ma nell'intero casentino.